Cari fratelli e sorelle, Continuo a pregare per il Libano e per le altre situazioni drammatiche nel mondo che causano sofferenza alla gente. Mio pensiero va anche alla cara Bielorussia. Seguo con attenzione la situazione post-elettorale in questo Paese e faccio appello al dialogo, al rifutto della violenza e al rispetto della giustizia e del diritto. Affido tutti i bielorussi alla protezione della Madonna, Regina della Pace.